farò decisamente fatica farò un sacco di fatica nell'analizzare questa partita ma come potrebbe essere diversamente perché questa non è stata una partita questa è stata semplicemente una follia perché io ragiono su quello che è il primo tempo e il primo tempo se ne prendiamo cinque o sei non succede niente ragiono sul secondo tempo per come inizia il secondo tempo fino a quel gol sbagliato da Rafa Silva al volo su aste di João Mario se ne prendiamo altri due non c'è niente da dire poi a un certo punto noi dobbiamo fare dei cambi forse per preservare i giocatori in vista del campionato perché escano Vlaovic Kostic Quadrado Bonucci previsione di Lecce e magicamente ci crediamo ma calcio è uno sport senza logica calcio è veramente uno sport senza logica perché a caldo e per semplicemente la partita che ho visto io vi dico che non ha letteralmente senso questo sport con questi 90 minuti che abbiamo visto non ha minimamente senso non me li spiego io è in cerchio sono in cerchio anche adesso si stanno abbracciando e questo spirito di gruppo per fortuna rimane e forse questa è l'unica cosa da salvare di questa serata in cui veniamo eliminati e usciamo ai gironi contro il Benfica che ancora una volta rimane imbattuto e c'è questo 4 a 3 del Benfica che io sinceramente in questo momento faccio fatica a decifrare ma cercherò di andare un po più nel dettaglio intanto vi chiedo di scaricare il numero 10 il link per l'applicazione qui sotto in descrizione scaricatelo perché poi sul numero 10 vorrò fare anche un contenuto a parte esclusivo insieme a tanti altri contenuti esclusivi come gli articoli che sto scrivendo per diventare giornalista sportivo quindi andatevi a leggere un po anche quelle che sono le mie opinioni inerenti ai fatti del giorno infatti l'attualità però io io ero convinto e lo sapete ero convinto di perderla questa partita ed ero convinto anche di di prenderne almeno quattro ricorderete che vi dicevo secondo me questa sarà una disfatta vera e propria della juve e per non lo so quanti minuti 50 60 70 75 minuti poteva dilagare questa partita benfica assoluto padrone del campo c'era stata questa dimostrazione assoluta di superiorità questo senso di superiorità io mentre guardavo la partita ragionavo anche con la chat chiedevo ragazzi ma quant'è che non siamo così dominati da una squadra qualcuno diceva dall'andata con benfica e ci stava però lì qualcosina era accaduto e la partita più vicina al dominio assoluto che ci è venuto in mente è stata il ritorno col celsi l'anno scorso quel 4 a 0 a londra poi gli ultimi 20 minuti cioè se io penso all'andata col benfica ritorno col benfica noi abbiamo giocato 40 minuti in tutto ma in quei 40 minuti abbiamo mostrato qualcosa di di veramente allucinante e allora ancora una volta mi chiedo ma perché 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 poi aumentano i dispiaceri aumentano i rimpianti aumenta la tristezza perché io a un certo punto l'ho pensato lo vedrete nella reaction proprio pensato ci sta a perdere si può perdere ma così è esagerato perché fino al quarto gol del benfica ragazzi anzi al quarto gol del benfica ho veramente pensato ma questi mi stanno prendendo per il culo perché questi non hanno nemmeno voglia di dimostrare un segno di reazione hanno steso il tappeto rossa hanno detto prego andate avanti voi e quando tu non non metti in campo quella voglia anche solo di contrastare l'avversario c'è poco da fare c'è pochissimo da fare si meritano quegli altri se poi loro aggiungono una prestazione di quel tipo in cui ancora una volta si dimostra che questa Juventus ha delle lacune gravi sotto il punto di vista della preparazione dello sviluppo di gioco all'interno della partita beh puoi soltanto fare complimenti a quegli altri e ammettere ancora una volta te stesso che sei indietro terribilmente indietro tremendamente indietro non sei pronto per questi livelli è giusto uscire bla 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 ed è giusto uscire dalla Champions è giusto uscire perché se tu vinci una partita sola col Maccabi Haifa in casa tua e le altre perdi tutta anche quella col Maccabi in ritorno è giusto che esci però poi allo stesso tempo mi chiedo ma cosa siamo noi cioè quale siamo noi qual è la squadra quella è la vera Juventus quella che che viene calpestata umiliata demolita fracassata dal Benfica dal Maccabi dal PSG nel primo tempo quella che a un certo punto cazzo ce la può fare a reagire può mostrare per pochissimi minuti per pochissimi istanti ma che allora significa che non è tutto da buttare via e che qualcosina di buono dentro c'è qualcosina non dico chissà ma qualcosina c'è a cui aggrapparsi allora perché quel qualcosina non cerchiamo di tirarlo fuori sempre perché a un certo punto io vi dico questa serata ho provato sia imbarazzo imbarazzo nel dire sto sostenendo questi qua sia orgoglio nel dire cazzo che bella reazione ho provato entrambe le sensazioni entrambe le emozioni che sono contrastanti tra di loro perché ero sicuro di perderla sta partita ero sicuro di prendere almeno quattro gol però poi ci deve essere anche una sorta di equilibrio perché ho pensato cazzo adesso queste ce ne fanno sei sette e ci vanno ad umiliare invece che a un certo punto è venuto fuori quel qualcosa ma allora ma perché perché non siamo in grado perché adesso volete dare delle colpe perché lo so che poi alla fine si rivedete date le colpe a le lascio a voi nei commenti perché stasera secondo me è ancora più evidente il fatto che l'allenatore sicuramente delle colpe delle responsabilità importanti le ha perché se la juventus con i valori attuali individuali della juventus non riesce ad essere nemmeno avvicinabile ai livelli di calcio che può esprimere benfica allora lì è per forza di cose l'allenatore qualcosa c'entra e per forza di cose perché sennò questi giocatori sarebbero valorizzati però dall'altra parte vi dico ci sono stati dei giocatori che nel momento che sono usciti dal campo si è vista una differenza abissale si è vista una differenza di voglia allucinante proprio di discorso anche solo mentale e quindi mi viene da dire che le colpe ancora una volta per l'ennesima volta vanno divise spartite stasera c'è stata anche una formazione iniziale di un certo tipo strana perché anche lì alexandro non gioca perché compra la lanca poi entra in campo cioè stasera io io non riesco a spiegarvele in maniera logica io la partita di stasera non riesco a raccontarvele in maniera logica ma sicuramente tu non sei eliminato stasera tu non esci dalla champions stasera tu esci dalla champions in casa col benfica quando potevi anche lì prenderne 5-6 comunque benfica tra andate e ritorno si è dimostrato superiore e di tanto rispetto alla juventus e quindi è giustissimo che vadano avanti loro e anzi aggiungo complimenti al benfica perché non mi ricordo se li ho ancora fatti ma questo è da dire e soprattutto col maccabi e se io penso le partite che abbiamo fatto con la sample le partite che abbiamo fatto col monza le partite che abbiamo fatto col maccabi il primo tempo che abbiamo fatto con la salernitana questa ragazzi juventus salernitana cioè questa juventus salernitana primo tempo secondo tempo due partite diverse questa è juventus benfica e milan juventus i primi 20 minuti di un certo tipo qua gli ultimi 20 minuti oppure fiorentina juventus questa è l'ennesima dimostrazione di una squadra che le potenzialità ce le ha nascoste messe lì un pochino a potenzialità di alto livello ma che in questo modo non li tiri fuori perché a certo punto quando si è andato a briglia sciolta ma anche più libero mentalmente perché solo il fatto che healing entri e ti metta 3 4 5 6 cross di quel livello lì vuol dire che comunque sul fondo ci arrivi vuol dire che li metti e sei più libero di testa però vuol dire che questa squadra quelle cose le sa fare le può fare e deve fare e pensare che la juventus al 25 di ottobre 2022 sia già eliminato ufficialmente dalla champions league sinceramente mi dà da fare mi da noia questa è l'eliminazione vi giuro che mi pesa meno di tutte mi pesa meno di tutte perché io ero convinto di andare fuori stasera mi dispiace che a un certo punto ci ho creduto lo ammetto a un certo punto ci ho creduto perché stasera è così folle che la logica del calcio tutto quello che erano le convenzioni e tutti quelli che erano gli equilibri mostrati se ne vanno a ramengo e vive quel momento folle di pura follia del calcio in cui la champions dimostra che non c'è logica non c'è scienza e che è impossibile da pronosticare certo punto io lo ammetto ci ho creduto ci ho creduto perché ho detto questi gli si è fuso il fusibile è andato via completamente e noi adesso va a finire che ne mettiamo dentro altre due perché in un minuto si è ribaltata la partita quindi davvero è l'eliminazione che mi fa meno male in assoluto perché mi aspettavo di essere eliminato però secondo me ci deve essere anche un po di equilibrio è in questa juventus non possono esserci delle delle partite di di questa follia poi io da stasera mi porto a casa soltanto una cosa perché gol che prendiamo sono evitabili ma ne potevamo prendere anche altri poteva esserci boh 5 6 gol da parte del benfica forse anche 7 nessuno avrebbe avuto da ridire niente però che questa squadra sia un minimo viva io questo me lo voglio portare a casa perché questa squadra sembra davvero una squadra non definitivamente morta vogliamo dire che la stagione finita possiamo dirlo perché uscire dalla champion sicuramente pesa è una cosa che non puoi ignorare se usciamo gli ottavi solitamente siano tristi figuriamoci scira il girone per il fatto che ci sia del margine da tirar fuori ma magari nemmeno in questa stagione non vi sto parlando da qui alla fine dell'anno non vi sto illudendo che possa esserci una rimonta scudetto una rimonta che ci faccia vincere eventualmente l'europa lì in caso di qualificazione visto che il psg ha massacrato il maccabi o la coppa italia non vi sto dicendo questo vi sto dicendo che però aggrappati alle singolarità che sono presenti nei giocatori di questa squadra il fatto che la juve non sia tutta la butter via io questo me lo porto a casa ma allo stesso tempo vi dico responsabilità del allenatore sì ma anche responsabilità dei giocatori perché non sentire il peso l'importanza la grandezza di queste partite mi fa veramente mettere il pugno così e dire porca vacca ma chi siamo noi allora quale siamo noi una volta si diceva pazza inter adesso cos'era pazza juve perché stiamo a ricalcare un po i tratti no di quell'inter di una volta che poteva vincere e perdere da chiunque all'interno della partita mostrare questa è la cosa più lontana da una squadra d'allegri in assoluto perché la squadra d'allegri solitamente è una squadra organizzata bene in fase difensiva che comunque davanti in qualche modo se la cava questa è la cosa lontanissima da una squadra di allegri c'è proprio lontana distante allora dato che è lontana distante e allo stesso tempo abbiamo visto che si esalta nella follia nell'incoscienza ma perché non molliamo perché non non ci togliamo questa volontà di inseguire uno standard uno stampino replicato che vuole cercare di inseguire quello che è stato e che non può più essere perché per la champions è troppo tardi forse troppo tardi anche per la serie a però qualcosa dovremmo inseguire però qualcosa dovremmo guadagnarci dovremmo portarci a casa di positivo per un domani che non significa un domani stagione 22 23 ma un domani 23 24 24 25 25 26 quello che volete voi per un certo punto questa juve va va interpretata va capita e qualcosa di di buono va va scavato anche se nascosto se sommerso qualcosina si deve portare a casa potevamo prenderne sei sette potevamo farne forse anche un paio in più in quei 20 minuti finali ma quello che non riesco a capire che non voglio più vedere sono questi continui accendi spegni accendi spegni accendi spegni perché vuol dire che tu le potenzialità ce l'hai ma non le stai sfruttando purtroppo